bellissimi ragazzi! perché thiniamo in cendolantale? no aspetta subito ho visto la figata della vita canza ma io le drogo non sento questo video io c'è faccio schifo in so ahhh 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 what the f**k ahhh ahhh ahhhh ahhh i remember in ahhh in in my days ahhh 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 ok basta questo video lo chiamerò provando il video basta troppo bello 3 not loud challenge ok ragazzi vi rendiamo tre volte qui perdiamo così ahhh 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 oh my god oh my god è morto mamma mia è stolto si è buttato al di fuori ma gli stai sparando allora ho messo tutti i bambini boom 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 i bambini boom boom ahahahah non ho detto i bambini boom bambini cingoo ahahahahahahaha ahahahahahah ahahahah ciazufu 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 ciazufue ciafoe ciao ciao come stai? ma chiudiamo si allora mi voglio rimanere questo ok batte il 5 Charlie no non batte il 5 anzi fai le da ok batte il 5 anzi no aspetta aspetta per la da buro ok ciao come stai? non mi interessa basta chiudiamo sono figo sono figo BOOM ok ho visto 2 volte ahah ragazzi vi raccomando lasciate un like a iman the turtle che botta bittch what the fuck was that? ooooo i remember when i remember when i remember when i remember damn look i look like mona lisa right now no ooo i'm not grounded no i think no i think che all the time i turn around brothers gather around always looking at me up and down looking at my Uuuuuh! E lie! I remember when I remember when I lost my Bear, Linda Carson, ABC 7, would you not eat my pants? Game O! non è un pesto, perché non è un pesto i can't swim 6 6 6 6 6 8 8 9 7 8 Sì Sono calmo! Stai calmo! Stai calmo! Stai calmo! No, non è la più grande cosa Ah, oh, damn Oh Sorry for flexing on you, nigger Boy Boy BOOM! E' un uomo! Giorno! 3, 2, una testata! Brossi! No, non so qua! Mangiati qualcosa di salvo! E' molto veloce! Ho fatto la tappa! Va bene! Comunque ragazzi, direi che questo programma video si può concludere qui! Se non vi è piaciuto un sacco di like, commentate e iscrivetevi al canale! E...